Si può essere intimamente cittadini e siccome questo è un romanzo che parla di una detenzione, una detenzione particolare perché il carcere è minore di Nisida, è chiaro che un cittadino che vi entri capisce che il carcere è un limes, cioè un limite, una porta oltre la quale si è diversi. La detenzione è uno dei temi civili brucianti, che secondo me ci manifesta anche come popolo. Un carcere buono, veramente rieducativo, è un carcere che sa prendersi cura di chi ha perduto tutti i diritti. E' peccato, il nostro ministro degli interni un giorno si è un giorno pure, dice marciscano in galera, buttare le chiave, è una cosa terribile, è il linguaggio d'odio che io spero invece in questi libri possa essere contrastato. Ha ragione Cirina, e sai perché è tremenda questa frase? Perché è come se dimenticasse lo Stato, cioè tra la persona che fa il più efferato dei delitti e il detenuto dentro ci siamo noi, c'è la magistratura, c'è lo Stato. Dire marciscano in galera significa dimenticare di essere.